L'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino quotidiano dei casi Covid-19 relativo all'11 agosto, scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute, parla di 28.433 casi in tutta Italia e di questi in Sicilia 2.446. Per quanto riguarda invece la provincia, l'ASP Nissena comunica che, dall'aggiornamento sempre dell'11 agosto relativo alle 24 ore precedenti, si registrano 84 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 23 pazienti di Gela, 14 di Caltanissetta, 6 di Riesi, 5 di Mussomeli, 5 di Niscemi, 5 di San Cataldo, 5 di Sutera, 4 di Campofranco, 4 di Mazzarino, 3 di Delia, 3 di Sommatino, 2 di Marianopoli, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Butera, 1 di Montedoro e 1 di Sera di Falco. 3 i ricoveri in degenza ordinaria, 1 paziente di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Delia e nella stessa è stato trasferito dalla UOC anestesiera e animazione un paziente di San Cataldo. 4 le dimissioni dalla degenza ordinaria, 2 pazienti di Gela, 1 di Niscemi e 1 di Caltanissetta. Guariti da Covid-19, 31 pazienti di Gela, 27 di Caltanissetta, 19 di Riesi, 12 di Mazzarino, 12 di Niscemi, 6 di San Cataldo, 5 di Delia, 4 di Mussomeli, 2 di Butera, 2 di Marianopoli, 2 di Sommatino, 1 di Acquaviva Platani e 1 di Vallelunga Pratameno. Grazie mille! Grazie mille! Grazie.